buonasera a tutti oggi voglio fare delle licensioni su questo gioco che si chiama sand ship allora allora da quando ci gioco circa da una settimana posso comunque dire che è un gioco dal mio avviso molto molto interessante allora le cose che comunque come si come si gioca sto gioco prima di tutto ci troviamo quando iniziamo ci troviamo praticamente con una base un po più diciamo piccola rispetto a questa qua che ho io attualmente cioè nel senso che abbiamo uno spazio molto più un po più limitato rispetto a quello che io ho adesso perché praticamente io lo ho espaso e quindi praticamente perciò c'ho questa c'ho questa base un po più grande del normale ovviamente all'inizio mi faccio vedere chiudiamo un po qua e faccio vedere una cosa per farvi capire dove tolgo qualcosa così per farvi capire allora all'inizio all'inizio ci troveremo a fare delle semplici delle semplici operazioni nel senso che ci chiederà ci chiederà di fare diciamo i piccoli materiali che sono questi qua faccio vedere allora chiudiamo un attimo questo qua va bene questo basta fare questo per farvi capire un attimo chiudiamo il magazzino ok allora ci chiederà di fare dei materiali semplici per esempio il l'iron ore no l'iron ore non dovete fare altro che mettere praticamente questa diciamo questo sintetizzatore e praticamente già sta impostato poi ovviamente all'inizio e poi una volta che l'avete che l'avete impostato praticamente vi darà l'iron ore vedete questo dovete considerare questa fabbrica qua questo qua che ho io questo no questa qua che questa qua vedete poi i materiali poi vanno non vanno bene poi vabbè poi con il passare poi vi continuo comunque a fare le quest e vi dice anche di poi di di costruire una fornaia praticamente per fare per fare le piastre come si fanno a fare le piastre allora le piastre si fanno in questo modo allora muove qua per esempio ci mettiamo questa vi farà fare questo tipo di missione ecco qua ecco qua ecco qua mi farà fare questa fatemi vedere se l'ho messa bene mi sembra che non l'ho messa bene fatemi vedere ti ho messa no non l'ho messa bene perché ci manca il ci manca ci manca questo eh ok per fare le piastre cioè mi faccio vedere ecco qua infatti vedete stiamo producendo l'iron plate stiamo producendo l'iron plate sto producendo l'iron plate ok l'iron plate si forma come già vi ho detto dal dall'iron ore incantescento quindi invocato con questa con questa costruzione qua che si chiama la pressa e praticamente facciamo facciamo l'iron plate ma ovviamente lo dice anche qui allora se noi andiamo a vedere il materiale che comunque dobbiamo praticamente produrre pelle queste eccetera basta andare dove sta scritto questo libro ok e ci dice praticamente tutti i materiali che possiamo che possiamo costruire ok qua ci dice per esempio che cosa vogliamo io per esempio ho sbloccato per adesso vedete io sto ancora sto sto ancora a metà strada del lavoro neanche pure però io ho cominciato a sbloccare ho sbloccato già tutti questi qua ok però io come e dici ma come poi dopo se non mi ricordo qualcosa come come faccio allora è semplice basta che ne so che cosa vogliamo costruire per esempio vogliamo costruire voglio costruire questo lo steel plate che ho sbloccato come si fa a costruire lo steel plate lo steel plate si costruisce con se io poi vado a cliccare con il con il qui vado a cliccare con il mouse in questo caso voi avete con il dito in questo caso qui ci dice che ci serve lo steel lo steel quindi praticamente va come si forma lo steel come si forma questo si forma con l'iron ore ok l'iron ore più il carbone ok l'iron ore più il carbone invocato fate poi lo fate diciamo lo steel lo lo steel lo steel plate ok quindi praticamente qui vi dice tutto tutto ok qui vi dice tutti quanti i materiali che servono se vanno se devono essere poi diciamo invocati diciamo diciamo riscaldati eccetera ok perfetto la stessa cosa allora questo è uguale per i materiali e questo è uguale anche per diciamo i device che sono i device sono praticamente le costruzioni ok io praticamente voglio sapere che cosa fa questo questo qua praticamente è un mixer questo mixer serve per vedete questo ci fa pure l'esempio per fare lo steel vedete se io poi combino il carbone con lo steel io posso produrre il carbone con l'ironor scusate posso produrre lo steel praticamente infuocato ok è semplice poi ovviamente all'inizio vi consiglio sempre di ascoltare le quest ok la quest la possiamo trovare allora queste sono queste sono le quest diciamo delle missioni diciamo principali ok queste sono delle missioni principali che ci dice di fare ma con le missioni principali e queste invece sono i contratti ok ok i contratti con i contratti possiamo praticamente ottenere ottenere dei materiali che ci fanno praticamente sia sbloccare quindi aumentare il diciamo la nostra fabbrica quindi lo spazio che possiamo ottenere con lo spazio in più ok possiamo avere uno spazio in più e sia per avere delle praticamente costruzioni ok perché con le cose alcune costruzioni vi richiede vedete io ve lo faccio vedere per esempio alcune ricerche scusate alcune ricerche vi richiedono dei materiali speciali come esempio i red dead cycle vedete i red dead cycle questo qua questo qua i red dead cycle no qua ci dice che è un common common che significa è un materiale diciamo comune ok come si fa ad ottenere questo materiale comune ok come si fa ad ottenere questo si ottiene praticamente andando a a fare i contratti ok perché facendo i contratti possiamo ottenere anche i possiamo ottenere diciamo dei materiali tra virgolette rari e speciali come già vi ho detto ovviamente ci sono vari tipi di box che possiamo incontrare possiamo incontrare i common box i rare e il leggendario e questo eccetera vedete allora io per esempio ho preso i common crate che cos'è common crate common crate non è altro che un box praticamente che mi dà ovviamente la possibilità di ottenere vedete uno di questi praticamente materiali o mi ottengo questo o mi ottengo questo o mi ottengo questo almeno uno almeno uno ok poi ce ne possono dare pure due tre ok e avere anche una piccola percentuale di ottenere un raro ok perfetto eh un buon esempio io già dovevo collezionare questo qua per esempio io mi metto collection ovviamente ci dà sia un po' di soldi ok ci dà il red dead cicla in questo caso mi è capitato e ci dà un po' di esperienza ok ora vediamo quest'altro questo deve essere raro vedete ho preso anche un vedete rare blue dead card rare blue dead card ho preso ok questa rara blue dead card mi potrebbe poi servire per fare sia l'aggiornamento potrebbe essere necessario e sia per la ricerca scusate e sia per l'aumento della diciamo della nostra fabbrica ok per adesso questo io praticamente ho capito di questo gioco ovviamente più si va avanti più si va avanti con il gioco più diciamo diventa ovviamente si sbloccano nuove funzioni nuove funzioni come possono essere sia per quanto riguarda nuovi materiali ok e sia diciamo possiamo anche uscire qua vi faccio vedere e entrare in quest'altro tipo di modalità che non è proprio una modalità ma stiamo praticamente andando fuori dal diciamo dalla nostra fabbrica e il tetto diciamo della nostra fabbrica ok io lo chiamo fabbrica ma è più o meno io lo vedo più come un carro armato praticamente non so come 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 vederlo questo e uscendo fuori dalla fabbrica possiamo possiamo ovviamente ottenere anche altre cose per esempio possiamo poi si sbloccherà ovviamente con il tempo nuove funzioni nuove costruzioni vedete se fate su building mi dice praticamente le cose che comunque posso ancora costruire posso costruire ancora la sostanza harvest che non ho ancora costruito per esempio costruire delle cose nuove ho costruito i puzzle puzzle sono delle altre funzioni che comunque all'interno io se vado dentro praticamente mi fa fare ovviamente la quest che praticamente si sblocca piano piano comunque io vedo questo gioco molto ma molto interessante non è un gioco che ci dovete stare per tante ore vicino questo comunque è una cosa comunque molto 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 positiva potete praticamente se avete per esempio del materiale superfluo superfluo scusate lo potete anche tra virgolette buttare ok aspetta un secondo vi faccio vedere come si butta l'item ecco per esempio voglio che ne so buttare un un iron ore ok come si fa a buttare un iron ore io vado qua vado fuori praticamente clicco e praticamente mi dice qua quanti iron ore vuoi buttare ma quando li buttiamo poi dopo non ci danno niente non è che vi da soldi no no assolutamente questo è solo per liberare un po' lo spazio ok io per esempio che ne so voglio buttare 4 4 iron ore metto delete ok e mi ha buttato 4 iron ore ok perfetto ovviamente ovviamente come già vi ho detto questa è la cosa prioritaria poi ovviamente con le ricerche possiamo sia aumentare i diciamo i materiali che possiamo ottenere anche offline allora in transito vuol dire che praticamente stiamo stiamo ottenendo praticamente 196 198 praticamente stiamo producendo e siamo questi item qui ce li abbiamo nel nostro praticamente in mano praticamente no giusto ovviamente se io mi metto claim ovviamente mi andrà sulla warehouse vedete io mi metto clicco where e praticamente mi va nella warehouse ok ovviamente questo è il massimo che posso ottenere quando vado offline quando vado offline posso ottenere 5000 unità ok posso possedere 5000 unità mentre sul lato destro del mouse dell'altro testo ha scritto total che cos'è il total total non è altro che che ci dice praticamente che cosa stiamo producendo ok io sto producendo praticamente 5.0 di questo praticamente del che poi bisogna sbloccare che io ho sblocato pure adesso la sostanza questa sostanza praticamente fa sì che possiamo fare dei materiali praticamente rari tra virgolette e e poi ci dice che stiamo producendo l'iron plat oltre questo che cos'è questo numero che sta scritto 2,5 sbarra 2,5 ok allora questo che cosa questo che cosa è praticamente è diciamo lo speed cioè la velocità praticamente di di ottenere ovviamente di ottenere quel tipo di materiale ovviamente ovviamente se io ho non vi faccio vedere se ho una sola fabbrica io ho 2,5 se io per esempio mettessi per esempio vi faccio pure vedere due fabbriche dello stesso praticamente materiale io otterrò 5.0 che significa ottenere 2.5 5.0 significa la velocità io produco produco 2,5 di 2,5 cioè 2 2 plate praticamente 2 irion plate e mezzo ogni ogni secondo praticamente ok ogni secondo praticamente io produco questo ok quindi praticamente io sto producendo sto producendo questo ok e mi dice anche la forza cioè lo speed ok perfetto ovviamente per avere di più questo praticamente basta che noi costruiamo un'altra fabbrica di questa basta fare un'altra fabbrica e praticamente velocizziamo quello che noi praticamente abbiamo bisogno facciamo ok va bene ma per esempio io ho per esempio ho concluso il diciamo la ricerca ok ho concluso questa ricerca che si chiama Cooper Sintenizzatore io me lo vado a collezionare ok e mi da la ricerca che cosa ho ottenuto ho ottenuto ovviamente di poter praticamente fabbricare il Cooper Orr ho ottenuto di fabbricare il Cooper Hood e ho ottenuto di fabbricare il Cooper Wild e Cooper Plate ok ovviamente per avere il Cooper Orr e Cooper Hood e Cooper Wild e Cooper Plate ovviamente serve quel materiale che stiamo praticamente facendo ok che stiamo ottenendo ok abbiamo abbiamo praticamente concluso la ricerca fatemi vedere qua se posso fare qualche altra ricerca no però 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 io posso praticamente avere il Cooper Plate cioè in senso che se io colleziono 1350 Cooper Plate che io praticamente ho fatto la ricerca ci ci da ci da praticamente ci sblocca il Cooper Plate ok però ora devo un attimo capire come utilizzarla questo Cooper Plate aspettate un secondo allora qui noi praticamente già fabbrichiamo l'Iron Plate però per fare il Cooper Plate fatemi vedere ok ed ecco qua basta praticamente in questo caso siccome la fabbrica è uguale questa qua è uguale vedete uguale a come stessimo facendo l'Iron Plate solo che dobbiamo fare il Cooper Plate allora praticamente noi andiamo a cliccare qui clicchiamo su Cooper Ore ecco qua e andiamo avanti dovrebbe praticamente e vedete stiamo praticamente fabbricando molto bene molto molto wary ok stiamo fabbricando questo ok perfetto e stiamo fabbricando ora ovviamente vedete come andiamo lenti e dobbiamo ottenere quanto dobbiamo ottenere per questa qua vi faccio vedere dobbiamo ottenere 1350 ok in realtà possiamo anche continuare così però per velocizzare il tutto allora si fa così allora si fa allora si clicca qui praticamente ci dice allora ora vi insegno anche altri trucchetti allora che cos'è l'extend rotation rotate questa qua questo qua praticamente lo dice proprio dalla parola stessa io con questo pulsante io posso praticamente muovere diciamo un oggetto che ho nella fabbrica ok allora io ho questo oggetto che ne so questo che sarebbe diciamo il road la strada della fabbrica allora io clicco qui scusate no questo serve solo per la rotazione extend rotazione ok e io praticamente faccio la rotazione vedete vedete io sto rotando praticamente il mio il mio la mia strada ovviamente non posso solamente rotare ma posso anche costruire ok basta praticamente cliccare qui mi faccio vedere aspettate ah no perché ho messo questo vedete aspettate come fa un secondo ok ecco vedete ecco e poi lascio praticamente già ho costruito questa piccola strada ovviamente mi va a prendere su questa strada qua che ho nella warehouse ovviamente se io e questo è un fatto poi ci sta quest'altro pulsante il move selection è come selezionante vedete io posso selezionare tutte le costruzioni e posso portarmele dove a dove voglio ok vedete io lo posso anche spostare così 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 vedete praticamente ok perfetto ehm poi per esempio in questo caso io in questo caso potrei potrei fare una cosa semplice fatemi vedere ok posso prendere tutto questo perché già ho tutto questo 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 cioè pure la fabbrica perfetta e ci metto solo ci metto solo questo ok perfetto e posso praticamente selezionarla questa la la sposto la metto qua che non mi serve attualmente poi questo qua invece la seleziona la seleziono ok e andiamo a metterla qua ok praticamente vedete io ho fatto un'altra fabbrica ovviamente produco di più ok quindi andrò molto più velocemente il doppio ok andiamo a vedere mettiamo qui non dobbiamo fallire a norma facciamo solo il cu per ore e andiamo a fabbricare come potete vedere la velocità da due e mezzo sono passato a cinque quindi io sto producendo cinque ehm produco cinque produco cinque di 5.0 di cube plate vedete vedete anche la velocità come va veloce vedete come va veloce se ce n'ho un'altra pressa vi faccio vedere che ne posso costruire anche tre no non ce l'ho la pressa lasciamola stare va bene così va bene pure a due ok a due va più che bene tanto tra poco arriviamo a mille dobbiamo vi faccio vedere a mille e trecentocinquante ed è fatta nel frattempo però possiamo fare anche altro praticamente possiamo fare anche altro possiamo fare anche il possiamo fare anche lo stirud possiamo fare volendo eh possiamo fare anche lo stirud volendo anche se dovrei fare per lo stirud mi serve poi due caldaie allora per fare lo stirud mi serve lo stirud questo qua mi serve ecco mi serve la caldaia allora quindi praticamente va impostato in un certo modo allora vediamo un attimo vediamo se riesco con lo spazio perché poi qua mi si incasina tutto allora allora mettiamo allora selezioniamo tutto prima di tutto allora questo più o meno potrebbe andare bene fino a un certo punto però va bene perché questo va bene qui ecco qua poi ci mettiamo una questa va messa ok e poi va messa di nuovo un'altra fabbrichina fabbrichina sta qua sbagliato vedete qua bisogna pure stare attenti come fare vi faccio vedere ok vediamo ok così così dovrebbe andare allora prendiamoci i malinari che già ci abbiamo mettiamo uno qui poi dopo ovviamente addirizziamo un po' ok 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 questo po' dopo tutto addirizziamo tutto non vi preoccupate ok poi che ha detto che ci vuole allora abbiamo detto lo still allora vi faccio vedere vediamo un attimo allora questa la pressa si fa così e poi ci serve la pressa ci serve la pressa allora ci serve la pressa anche qua però ci servirebbe poi la pressa vabbè ce la compriamo un'altra che ci frega ok non ce l'ho un'altra vedete l'acquisto la devo acquistare a forza un'altra pezza acquistiamo un'altra pressa ok ok così anche se non mi piace come sta andando ok 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 quasi quasi incippa con questo un secondo perché questo qua va troppo azzeccato diciamo allora ecco qua quindi no devo fare un casino un secondo dobbiamo un po' cancellare un po' uno stretch ok 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 quindi va fatto una cosa così troppo ci vuole un po' di pazienza però allora mettiamo un po' così ecco qua vedete come va bene perfetto allora si va così vediamo mettiamo tutte le frecce diritte ok e poi ci mettiamo ci possiamo anche mettere direttamente la io poi ci mettevo pure la caldaia volendo però vediamo se mi va senza caldaia vediamo se mi va senza caldaia vediamo un po' però aspetta io sto qua ci serve non l'ironor ma va messo il carbone carbone più ah qua ci manca il ci manca un'altra fabbrica allora questo ok vediamo un poco ovviamente non va non va non va perché perché è storto perché non va perché praticamente è storta qua bisogna pure un po' di precisione ragazzi non è che vediamo un po' se va no non va non va ancora storta ok così dovrebbe andare ah ci mancano le fricce le fricce le fricce le fricce ok ok ora dovrebbe andare no non dovrebbe ancora andare perché ci sta ancora altre fricce che che soprappongono ok allora ancora questo vediamo vediamo se va adesso vediamo se va adesso eh ah fatemi vedere è troppo di calore quindi praticamente ah dovrebbe essere a 7 quindi praticamente ci serve anche la fornaia ok quindi come si fa a fare la fornaia perché vuole molto più calore quindi selezioniamo questo ci mettiamo una forni questo e dovrebbe andare ora vedete sto producendo lo steep lit vedete perfetto ok ovviamente ovviamente questo gioco bisogna bisogna avere la testa ragazzi non è che subito subito si fa piano piano con ragionamento si fa ah vi tengo comunque a precisare ancora un'altra cosa diciamo nelle road qua diciamo di ognuno di queste fab perché ne possiamo avere massimo 10 noi possiamo avere 50 pure delle strade possiamo avere 10 se superiamo 10 e lo cancelliamo con questo pulsante qua non ci andrà più nella warehouse ma infatti mo sto contattando un attimo lo sviluppatore per farmi capire perché perché così sto gioco nel senso che arriviamo a 10 una volta che si arriva a 10 poi perdiamo gli oggetti praticamente non ho capito il motivo perché boh non lo so e questa è una cosa che comunque va deve essere considerata ok vediamo che punto stiamo qua stiamo a 1229 nel frattempo nel frattempo quasi abbiamo pure completato mi sembra la ricerca ok vediamo 1229 ah no io dovevo no aspettate io non ho ancora completato ragazzi ma io pensavo che avevo completato no per fare allora dove stai io mi servevo per la ricerca prossima allora aspetta un secondo per fare questo mi serve anche è la sega quindi praticamente qui non è ancora completato ragazzi qui non è ancora completato allora come si fa a completare allora va messa la allora qua va bene qua questo va bene qua questo qua non deve essere ancora messo si va messa praticamente una sega quindi va messa una secuccia e va zerita qui la mettiamo qui poi ci mettiamo un po' di via ok intanto dopo adiriziamo un po' tutto e poi perché io dice ma come stiamo producendo era la base di quel materiale che serve ma non ma che noi dobbiamo costruire l'altro materiale ok questa qua ragazzi un secondo ecco qua vedete così deve andare volete vedere come funziona bene allora non dovremmo non dovremmo avere dei problemi anzi si abbiamo dei problemi perché è tutto storto allora ora si si ha ragione le fricce tutte storte pure qua le fricce tutte storte basta ecco qua ok perfetto andiamo a vedere però non va lo stesso bene vediamo un po' perché vediamo vediamo il motivo si blocca si blocca in questo caso non ci dà l'errore si blocca perché praticamente è storta la costruzione molto probabilmente allora vediamo un po' infatti è storta vedete dovrebbe andare così no è anche così ragazzi vado a vedere no ci dice ah ci dice praticamente che la temperatura è 13 dovrebbe essere a 0 come si fa a diminuire la temperatura ragazzi come si fa a aumentare siccome praticamente ci sarebbero dei materiali adatti però in questo caso possiamo aumentare lo spazio quindi la curvatura la facciamo un po' più diversa e allora quindi come si fa a fare allora vi faccio vedere come si potrebbe fare sto pensando sto pensando allora mettendo una curvatura un po' diversa allora selezioniamo questa allora selezioniamo questa pezzo ecco qua ecco perfetto e ci mettiamo un pezzo qui perché ci vuole più strade quindi per mettiamo soprattutto un pezzo qui vediamo allora un pezzo qui e un pezzo giusto giusto qui quindi va tutto bello diritto e mo dovrebbe andare vediamo se va aspettate eh no ah no non va perché giustamente io così facendo non ho aumentato lo spazio ma l'ho praticamente solo spostato quindi praticamente va messa un po' più di lato nel senso va messa un po' più di qui questa allora va messa qui vediamo se la possiamo mettere proprio qui e non se ne parla proprio più ci diamo più strada ah perfetto perfetto non dovrebbe funzionare ah no non funziona per le fricce vedete quante cose che vanno che devono essere fatte non è facile non è una cosa immediata e infatti vedete sto producendo lo steel root ok ci vuole ci vuole ci vuole quella pazienza questo gioco ci vuole quella pazienza adatta non è non è così non è così facile sinceramente ok perfetto vedete e stiamo producendo ovviamente anche questo ovviamente produciamo a 1,67 di potenza e produciamo a 5.0 il diciamo il cooper plate ovviamente anche se io me ne vado offline il massimo che produco è 5.000 unità ok claim qui ovviamente qui in alto ci dice il possedimento e qui in basso ci dice invece il la warehouse che poi ovviamente si va praticamente ad aumentare se io vedete metto in transit camp in transit camp ci dice praticamente ecco vedete io già l'ho completato mi serve solo 25.000 soldi praticamente per praticamente fare questa questa ricerca per fare ovviamente i soldi ci sono solo po' per adesso ho capito che ci sono solo poche strade quella di fare le ricerche ok per esempio ci sta questa praticamente ricerca che mi da 421 monete ci sta quest'altra che mi fa 1750 monete poi ci sta quest'altra che mi fa 12.000 monete però ovviamente questa per esempio mi servono mi servono 13.000 non abbiamo 13.000 invece non abbiamo 13.000 iron ore quindi praticamente io poi vado a fare l'iron ore e mi vado ad per completare ovviamente questa quest ok quindi praticamente più o meno avete capito cosa si tratta sto gioco se volete praticamente che vi porto sul canale altre spiegazioni su questo gioco e anche i modi per diciamo installarlo in anteprima questo gioco fatemelo sapere nei commenti mettete ovviamente un like se vi è piaciuto questa mia prima praticamente introduzione di sand ship di questo sand ship e che sicuramente lo riporterò ok per adesso vi auguro una buona serata alla prossima ok ok Grazie a tutti.